Sì, sì, hai trovato la soluzione. Ani, la gente deve saltar sul dàgatà. Salta sul dàgatà! 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 Halayerà e' un can poker!! Se maque sempre miẫnà. La torna sul dàgatà! Ha problematica! Sì, è morto vissarare perchè... Se mi sento male a mia trolyn e ben bad�. Allora, dàgatà sulla furtà potenità! Allì, passi a conto di L'ultima guantà 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 Ognuno per i cazzi su